Ciao, il mio nome è Marcia Delvecchio. Sono italiana e ho riunito l'Axiona per un anno e mezzo. Ho lavorato nel Departamento dell'Axiona Infrastruttura. Il mio lavoro consiste nell'identificazione, presentazione e mangiamento degli progetti europei e internazionali. Dopodiché sono involucrato in tutti i passaggi del ciclo del progetto, ho portato un'attività diversa e ho la possibilità di lavorare con le entità di ricerca di tutta Europa. e creare i link che possono diventare opportunità di business per la compagnia. Mi piace di lavorare in Axiona è che ho l'opportunità di dimostrare i miei personali e professionali nel lavoro di giorno per giorno. In Axiona ho trovato un ambiente molto grande, multiculturale che riuscita ogni servizio, dando loro l'opportunità di crescere nella compagnia e rendere Axiona una firma competitiva nel mercato internazionale. in Axiona in Axiona in Axiona in Axiona